Ed eccolo qui ragazzi finalmente tra le mie mani dopo mille peripezie Ciao a tutti ragazzi sono sempre Luca e bentornati sul mio canale Raw Therapy Oggi andremo ad unboxare, ad aprire insieme l'ultimo drone desideratissimo Il DJI Mini 3 Pro in versione con il radiocomando RC con lo schermino Dico mille peripezie perché quest'anno purtroppo non sono stato tra i colleghi youtuber fortunati Che hanno avuto il piacere di provarlo in anteprima, prima dell'uscita che è avvenuta circa una settimana fa E l'uscita effettiva sul mercato è avvenuta davvero pochissimi giorni fa Non con pochi problemi perché appena uscito chiaramente lo volevo provare Volevo portarvelo comunque sul canale per dirvi appunto le mie su questo fantastico mezzo Che si aggiunge a una sfilza di mezzi uno più bello dell'altro di DJI Comunque l'avevo preordinato su Amazon perché effettivamente mi sembrava quello che l'aveva come consegna prevista Il prima possibile e più precisamente era il 18 maggio mi doveva arrivare proprio a casa il 18 maggio Purtroppo così non è avvenuto nel senso che Amazon prima ha temporeggiato senza saper dare informazioni molto precise Il giorno stesso della consegna che era prevista per quel giorno lì diceva in consegna Entro appunto il pomeriggio verso mezzogiorno mi hanno mandato una mail dove non rimandavano la consegna di uno o due giorni Ma dicevano proprio data di consegna da definire cioè non sapevano minimamente quando sarebbe arrivato Questo è un problema un po' esteso perché all'inizio francamente volevo prenderlo sul sito DJI ufficiale Il DJI shop perché era quello con più vantaggi insomma era quello che poteva essere l'opzione migliore Però anche lì sul sito ufficiale questa versione qui con il radiocomando con lo schermo la dava in uscita per i primi di giugno E voi vi chiederete perché tutta questa fretta questa fretta è data dal fatto che domani io parto per una settimana di vacanza E quindi francamente volevo avercelo dietro E finalmente un po' di tempo da dedicare a questo drone che merita tutto Spero quindi di portarvi un sacco di video utili nei prossimi giorni Ma tornando a noi come ho fatto alla fine a trovarlo Uno di voi uno dei miei iscritti che saluto Ludovico andatelo anche a seguire sulla sua pagina curma ebike Mi ha scritto guarda fermati annulla l'ordine su Amazon Vai dal mio amico Marco all'unieuro di Como e lì ce l'hanno te lo riservano per te Introvabile in Italia ma noi ce l'abbiamo Unieuro Como ce l'ha Questo mi ha sorpreso davvero molto e ringrazio ancora tantissimo Ludovico Che mi ha tenuto così a cuore nel prendersi la briga di sentire il suo amico Riservarmelo eccetera eccetera Perché dopo una rapida telefonata a un po' di negozi fisici e non Non ce l'aveva nessuno e anzi mi davano del pazzo che lo volevo in così poco tempo Questo drone qui ragazzi già soltanto da come stanno andando i preordini venderà tantissimo Dicono le vendite lo dice il fatto che adesso c'è una lista di attesa abbastanza lunga sul sito DJI Adesso le prime consegne saranno per il 20 giugno Su Amazon calma piatta non si sa assolutamente nulla e mi stupisce anche molto che voglio dire Soltanto alcuni unieuro sembrerebbe che ce l'abbiano avuto Il DJI Store Italia non ce l'aveva O comunque anche sempre in pochissimi pezzi Ce l'avevano alcuni altri siti specializzati di droni Qualche shop anche fisico di fotografia Basta pochissimi pezzi Comunque basta con queste chiacchiere che non vi interesseranno più di tanto Però ci tenevo a raccontare un po' questa esperienza E questi chilometri che ho fatto fino a Como per prendere questo piccolino Andiamo ad aprirlo Questo video sarà soltanto un unboxing, un'attivazione eccetera eccetera di questo fantastico drone Tutte le caratteristiche specifiche eccetera Le andremo a commentare poi nei prossimi giorni Eccola qui la scatola DJI Mini 3 Pro Rullo di tamburi Voilà Boom Eccolo qui Coperto Da una bustarella Wow 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 Eccolo qui ragazzi Ultra Light Lo dice qui sul fondo Questo qui è il nuovo Ultra Light di DJI Il nuovo drone Cioè che può essere sostanzialmente guidato senza patentino Da tutti gli appassionati E finalmente cambia Cambia di design notevolmente Avevamo avuto il DJI Mavic Mini 1 e il Mini 2 Praticamente identici ma profondamente diversi all'interno Questo qui non è soltanto profondamente diverso all'interno Dal reparto foto, video, sensori che sono qui davanti Questa è la grossa novità di questo modello Ma è anche proprio diverso Diverso anche nell'apertura delle braccia Che non avviene più per quelle davanti Con il solito movimento diciamo di apertura laterale Ma dal basso verso l'alto Mentre quelli dietro si aprono esattamente all'incontrario Quindi apertura di questo drone all'incontrario Eccolo qui Ultra Light Allora devo dire che francamente il design Non mi ha fatto impazzire Ok Trovavo più bello il Mini 2 Però però Una volta in mano Non è così male Mi piace Quindi promosso bocciato Lo deciderò nei prossimi giorni Tanto comunque in vacanza mi porto sia il DJ Mini 2 Che il nuovo Mini 3 Andiamo a vedere questa fantastica fotocamera Fotocamera che cambia tanto Non solo nella qualità Ma anche nella capacità Di fare le foto in orizzontale Ma anche per la prima volta in un drone In verticale Un po' in ritardo questa caratteristica Non lo so Vedremo quanti la useranno su social e quant'altro Sicuramente comunque abbastanza utile I fantastici sensori Di evitamento ostacoli E mappatura dello spazio Per l'autotracking Sono qui Abbiamo anche i sensori Posteriori Che sono sempre qui E quelli inferiori La batteria è questa Ultra Light Veramente Non vedo grandi sistemi di dissipazione Devo dire E questo è un problema Che tanti stanno riportando Il fatto che questo drone si suriscalda Vedremo Insomma vedremo Porticina USB-C per la ricarica E ovviamente slot per le micro SD Guardate com'è Le braccia di questo drone E di conseguenza i motori E le eliche siano leggermente inclinate Ok? Quindi cambia anche molto questa cosa qui Il drone è tutto un po' inclinato in avanti Vediamo quindi un po' le protezioni Questa gommetta qui Tutti questi fantastici adesivi Dalla camera Che adesso riempio di ditate Charge before activating Quindi ci toccherà metterla subito in carica Per proseguire poi col video E attivarlo E renderlo pronto alla mia vacanza That's it Ovviamente adesso La batteria è in stato di frizz Non è tutto di questo mezzo Perché chiaramente il pezzo forte Non è soltanto il drone Ma lo è anche E soprattutto Il nuovo radiocomando Che è proprio qui Radiocomando mamma mia Bello grossino eh Wow Che padellona Eccolo qui Leggero Con il suo bello schermo Bello grande Spero anche bello luminoso Cambia parecchio questo radiocomando E vedremo un po' Quanto sarà adatto nell'uso Il grip è veramente molto buono Lo schermo veramente molto molto grande Gli stick non sono più nascosti qui sotto Ma ce li abbiamo qui E sono parecchio piccoli eh Nell'avvitarsi Li hanno anche cambiati Perché non si avvitano più con il maschio sullo stick Ma c'è il maschio Sul gimbal Del radiocomando Sì Forse sono abbastanza intuitivi e precisi Però sono veramente molto piccolini Penso che Se ne perderanno tanti E uno dei dettagli Che è stato criticato È il fatto che Non vengono forniti più in confezione Degli stick di ricambio Che abbastanza duretti Gimbal nell'utilizzo Abbiamo chiaramente il comando per fare le foto Il comando per fare i video Accensione Modalità normale Sport Cine Tutte cose a cui siamo abituati Due ghiere Ok Le antenne che sono qui Non si estraggono più Vedremo un po' questo Quanto influirà Nella recessione del segnale Abbiamo poi due tasti programmabili Quindi un comando con parecchia roba Parecchia roba Che lo porta un pochettino All'avvicinarsi al DJI RC Pro Non so come si chiama Insomma quello con lo schermo Da cui un po' Si è ripreso questo modello qua È una combinazione che conviene alla fine Perché il DJI Mini 3 Con il vecchio radiocomando Quello che avevamo sul Mini 2 L'Air 2S Eccetera eccetera Costa poi circa 200 250 euro in meno Della versione Questa qui Con appunto lo schermo Schermo che viene anche dissipato Da questa griglietta qui Ebbene Vedremo un po' Come funzionerà Qui al fondo Chiaramente abbiamo La porta di ricarica Ok La scatola è molto minimale Non c'è assolutamente Nient'altro Perché Questa qui Non è nessuna Versione Fly More Eccetera eccetera Perché Di fatto non esiste Esiste il Fly More Come Non un'opzione Compresa all'interno Della scatola del drone Ma un qualcosa Che costa 189 euro Comprende sempre le solite Due batterie La borsetta E quant'altro Ed è venduto Proprio in una scatola a parte Cavo USB-C Cacciavitino Che ho perso Quello del Mini 2 Per il cambio delle eliche Quattro eliche di ricambio Niente di più Eliche che appunto Sono già montate sul drone Come vi dicevo Non ci sono Gli stick di ricambio Se per caso Gli andate a perdere Cattiva DJI Anche perché questi stick Sono proprio nuovi Quindi Se li perdete Io personalmente Se li perdo Non potrò usare Stick di ricambio Di altri modelli E tutto qui Non c'è nient'altro Drone Radiocomando E stop Non c'è un caricatore Non c'è nient'altro Vado a mettere quindi Il drone in carica Da qua dietro Voilà Qui è tutto In ricarica E nel mentre Lei la aggiungiamo Insieme a tutte Le altre scatoline DJI E devo dire che È sempre più piccola Guardate Si era partiti Dal Mavic Mini Bello grosso là Mini 2 Oggi Mini 3 Pro Che in assoluto È la scatola più piccola E poi vabbè Abbiamo anche Le altre Ecco qua Drone caricato Il radiocomando In realtà Mi manca ancora un pochettino E niente Proviamo ad accenderli Per la prima volta Entrambi Stacco quindi Il drone Stacchiamo Il radiocomando Quindi doppio clic Sul radiocomando Questo qui è il tastino Di accensione 1 e 1 2 Voilà E poi doppio clic Sul nostro drone 1 e 1 2 Accendendo DJI Voilà Schermata iniziale Scritto in cinese O quello che è Andiamo a selezionare Quindi La lingua Corretta Italiano Aggiungiamo la rete La tastiera Funziona davvero Molto molto bene Questa connessione Serve Appunto Per scaricare Aggiornamenti Eccetera eccetera Facciamo avanti Questo qui è il link Del drone Ed è verde Perché In questo momento In realtà Il drone è già collegato Al radiocomando A questo punto Ci fa accedere Con il nostro account DJI Voilà Mail inserita Attiviamo Andiamoci anche Al programma Per miglioramento Qua ci fa Un po' di panoramica Di utilizzo Di questo Radiocomando Accediamo A DJI Fly Che in questo momento Si sta Proprio avviando E quindi È l'applicazione Solita a cui siamo Abituati Quindi sostanzialmente È come se avessimo Il nostro smartphone Incastonato All'interno Del radiocomando Andiamo quindi Avanti E il bello È proprio quello Di non avere L'impedimento Dello smartphone Magari Se ci chiamano Tutte queste cose qui Saranno Appunto Evitate Avvio in corso Vedete che è tornato Rosso Qui E adesso A breve Si Ricollegherà La schermata Iniziale Della DJI Fly Prima cosa Più importante Di tutte Guardate qua C'è un aggiornamento Molto Molto Importante 1 giga Ok Nel mentre che Il drone Si raffredda Perché Si è scaldato Davvero tanto Durante l'aggiornamento Che è durato Un pochettino Andiamo a vedere Un paio di cose Interessanti Di questo radiocomando Se io scorro Verso il basso Noto che Come vedete Questo qui È un sistema Android A tutti gli effetti Voilà Andiamo nelle impostazioni Vedete Il sistema È un sistema Appunto Android Ok dai Riprovo Ad accenderlo Adesso si è abbastanza Raffreddato Se sta acceso Più di 10 minuti Senza volare Tende a surriscaldarsi Tanta tecnologia Tanto più Riscaldamento Allora Guardate qua Si è appena connesso Come potete vedere E in realtà Sta già accedendo Alla fotocamera Ci dice che Non abbiamo La Scheda SD Ma ci dice Ancuna cosa interessante Dati salvati Sulla memoria Interna Del drone Questo Mini 3 Ha una memoria Interna Esattamente come La serie Air Recente Sta diventando anche Calduccio Questo dissipatore Qua dietro Il radiocomando Tastino di Selettore Modalità Tra Cine Sport E normale Mi sembra davvero Molto cheap Guardate come si muove Male Per carità Non è un selettore Che si usa moltissimo Ma Qua sembra davvero Che Si stia per staccare Ok Ok quindi Siamo riusciti A attivare Aggiornare Il nostro Mini 3 Fiammante Nuovo Fiammante Fiammante Anche perché Davvero Io sta cosa Del riscaldamento Pensavo di sottovalutarla Ma Mi ha spaventato Quanto Cacchio È diventato caldo Probabilmente Sarà una situazione Che verrà Aggiornata Con aggiornamenti Firmware E Soprattutto Che non avviene Sicuramente Quando il drone È in volo Perché Le eliche Il Movimento Delle Eliche Dei motori Raffredda Sicuramente Abbastanza Il drone Però Mi sto già facendo Un po' delle domande Perché Io vado Al mare Vado in Sardegna È previsto Bel tempo Sono previste Temperature Piuttosto Calde E Boh Ce la farà Anche perché Io questo drone Vorrei Tenerlo Come unico Drone Diciamo Normale Non FPV Volevo vendere Un po' tutti gli altri Perché di fatto In questo periodo Li sto usando Molto poco L'Air 2S È veramente Fantastico Mi piacerebbe Tenerlo Per il suo sensore Da un pollice Però Vediamo Vediamo un po' Come si comporta Questo Nuovo piccoletto E se davvero Può Sostituire In questo caso Sia Il mini 2 E sia L'Air 2S Che Sono in mio possesso In questo momento Detto ciò Io sono sempre Luca Siete sempre Su Roll Therapy E noi ci vediamo Nel prossimo Video Volo Ciao 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 Grazie a tutti